Aver partecipato alla Winter School è stato nuovamente arricchente e importante perché dà l'idea di come si può costruire, come si può imparare veramente. La nostra società ha bisogno di persone preparate che sanno affrontare i problemi nella loro interezza. Questo è un bel messaggio per l'antipolitica, quindi invito tutti gli amici amministratori che hanno voglia di apprendere e imparare a partecipare anche loro alla Winter School. Un momento vero, serio, che si occupa di sociale, economia, dibattiti veri e domande soprattutto fatte per capire in fondo la nostra società. Abbiamo bisogno di momenti così. Grazie a tutti.